Seconda edizione della Bella Verona, una bellissima iniziativa che già l'anno scorso ha avuto un grande successo. Sì, abbiamo ritenuto che quest'anno di riproporre la Bella Verona 2, già abbiamo deciso lo scorso anno che sarebbe stata annuale, quindi insomma è una riconferma. Siamo tanti molto contenti lo scorso anno perché è stato premiato un'iniziativa di altissimo livello culturale, Palazzo Maffei, e quindi quest'anno la novità è anche nella commissione giudicatrice e si è inserito anche il dottor Carlone come vincitore dell'anno scorso. Ci auguriamo che anche quest'anno vengano presentate e quindi valutate dall'apposita commissione opere di alto livello. Mi consento di dire che si tratta di opere realizzate, quindi non è un concorso di idee ma è un concorso di cose già fatte che possono essere autopresentate oppure presentate da qualcuno. Il bando si può presentare da oggi? Da oggi si possono presentare le candidature fino all'11 novembre, il giorno ultimo per la consegna. La premiazione avverrà il 30 novembre, è importante questo perché è il giorno in cui Verona è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 2000, quindi abbiamo voluto mantenere sempre la data del 30 novembre e di sabato, ma il municipio è aperto apposto per noi.